Gentili telespettatori, buona giornata e Mario Monti, ve lo ricordate del governo Mario Monti, il professore di economia, dice che gli fu offerta la guida del centrodestra, quindi capo del centrodestra Mario Monti, che non era propriamente uno di centrodestra, dice Berlusconi mi offrì la guida della coalizione, purtroppo ora l'Italia dice è di nuovo a rischio, governi molli che comprovano voti con la spesa pubblica, che comprano voti con la spesa pubblica, sono un pericolo per la democrazia, mentre candidarmi nel 2013 fu una scelta contro i miei interessi, il super bonus è una patrimoniale al contrario, cioè tassi tutti gli italiani per fare rifare qualche castello ai ricchi. bella questa, il super bonus è una patrimoniale al contrario, non è tassare i ricchi per dare ai poveri, ma è tassare i poveri per dare ai ricchi, è fantastico, bravi grillini e tutti quelli dopo che hanno continuato col super bonus, davvero dei geni della lampada, chi segue il canale da tempo sa perfettamente che quando è arrivato il super bonus io subito vi ho detto, subito, ma cos'è questa storia che adesso ti rifai la casa gratis? Chi è che paga? Lo Stato, ma state scherzando? No, mi dicevano tutti, il super bonus, avevano scoperto la soluzione a tutti i problemi economici di un paese, avevano scoperto come strutturare le case gratis, che non le pagava nessuno, anche un rimbambito avrebbe capito, forse ce ne sono un po' troppi di rimbambiti in Italia, corpi d'armata, ci sono decine di corpi d'armata di rimbambiti, comunque, e così ricorda Mario Monti, ricorda che è nato il 19 marzo del 1943, lui dice di ricordare che in braccio a sua mamma andò con la sorella nel rifugio sotto le bombe, tra i bagliori infuocati, dice è difficile che ricordi cose accadute quando avevo due anni, eppure mi porto questa sensazione dentro. E poi si parla di calcio, si parla di Formula 1, si parla di Argentina, si parla del nuovo libro, e poi si parla di America, e si arriva poi, si parla dei balneari, la corporazione dei balneari paga allo Stato cifre irrisorie, in assenza di liberalizzazioni può alzare le tariffe ai clienti, vale anche per i tassisti, e per cose più importanti, per usare il linguaggio di Berlusconi lo Stato permette a certe categorie, in cambio dei loro voti, di mettere le mani nelle tasche di altri cittadini, non protetti da corporazioni, se non altro la prima e la seconda scarpa a chi le lauro le pagava di tasca propria, oggi i partiti comprano voti con i soldi dello Stato. Bravo Monti, è proprio così, oggi l'importante è comprare i voti, c'è chi li compra come il PD a 50 euro, e c'è chi li compra con le promesse elettorali, non ci metto i soldi sulla sanità, ma li metto sul taglio del cuneo fiscale, così tu hai 10 euro in più al mese, ma poi augurati di non dover mai aver bisogno di andare all'ospedale perché lì soccacchi tua. Ecco, comprare il consenso a discapito degli altri, questa è proprio definizione, un uomo con una certa età, con esperienze di governo, parla anche in un certo modo, dice oggi si compra il consenso con misure che costano moltissimo o che riservano un privilegio a danno degli altri cittadini. Il superbonus, una patrimoniale al contrario, si tassano i contribuenti a favore dei proprietari di immobili, oppure si aumenta il debito pubblico, quindi sulle spalle dei nostri figli e nipoti, e non è stato un errore soltanto del governo Conte, anche di tutti, tutti i governi che lo hanno seguito. Ci sono le dichiarazioni video di tutti i politici che elogiano il superbonus, insomma, politici che ovviamente non sanno niente di economia, non sanno nulla, nulla di nulla, e pontificano nelle interviste facendo i saccenti di economia e hanno portato il Paese al disastro. E poi aggiunge, dice su Berlusconi, che gli aveva appunto proposto di diventare il capo del centrodestra. Lui rispose di apprezzare la proposta e probabilmente avremmo vinto, ma che fino a quando Berlusconi fosse stato in vita nessuno avrebbe potuto guidare il centrodestra di fuori di lui. E poi avevamo idee troppo diverse. Quindi a quel punto Berlusconi propose proprio lui come capo del centrodestra. Ma Monti rispose, guardi, lei è l'unico capo del centrodestra, non posso farlo io. Finché lei è in vita, lei è il capo del centrodestra. E poi abbiamo delle idee anche diverse. Dice, nel 1994 Berlusconi l'ho pure votato e scrissi un articolo sul Corriere in cui aspicavo un liberismo disciplinato e rigoroso. Non abbiamo avuto né il liberismo né il rigore. Non ho mai sbraitato contro di lui, però ho risolto una crisi che aveva contribuito a provocare. Ho rifiutato la sua offerta di guidare il centrodestra. Il mio governo ha varato la legge che nonostante non fosse certo pensata per lui lo costrinse a lasciare il Senato. Gli ho impedito di diventare Presidente della Repubblica e malgrado questo abbiamo sempre avuto buoni rapporti. Beh, insomma, sono delle cose che oggi si sanno sul passato che ai tempi non si sapeva. Cosa pensa del premierato della Meloni? Sono contrario, dice, soprattutto perché ci priverebbe della possibilità di far nascere in casi di emergenza governi di unità nazionale. I governi nati con la fiducia più ampia del Parlamento, oltre l'80%, furono quello di Andreotti. Il mio, nell'emergenza finanziaria, è quello di Draghi al tempo del Covid. Vabbè, e poi aggiunge tante altre cose perché l'intervista è molto lunga. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata.